Operazione congiunta dei poliziotti di Fano, Pesaro, Ancone e Macerata che questa mattina hanno effettuato otto perquisizioni. L'attività investigativa riguarda un sodalizio di almeno dieci marchigiani, tutti uomini, indagati per una serie di truffe consumate tra Ancona, Roma, Cingoli e Civitanova. Il modus operandi della banda, con base nel maceratese, consisteva nell'acquistare auto e orologi di pregio tramite finanziamenti intestati a ignari soggetti mediante documenti e atti notarili falsi. L'obiettivo finale quindi era quello di acquisire il possesso del bene, rivenderlo e monetizzare. Sei in totale le parti offese che si sono viste arrivare bollettini per il pagamento dei finanziamenti oppure addebitare sui conti correnti le rate dei prestiti, vittime che poi si sono rivolte alla polizia di Stato per sporgere denuncia. Fondamentale è stato anche lavoro svolto dagli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, con l'ausilio della squadra mobile di Pesaro coordinata da Eleonora Cognini. Tra i casi trattati rientra l'acquisto di una Peugeot 2008 del valore di 15.000 euro che uno degli indagati avrebbe acquistato mediante un finanziamento intestato a un fanese ignaro di tutto. L'auto poi è stata venduta dai truffatori al prezzo di 3.000 euro ad un'altra persona oggi indagata, dopodiché il mezzo è stato rivenduto a prezzo di mercato, un giro che gli avrebbe consentito, con pochi passaggi, di guadagnare in modo illecito diverse migliaia di euro. La Peugeot è stata recuperata dai poliziotti e sequestrata. Questa mattina, inoltre, durante le perquisizioni delegate dalla procura di Macerata, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosa documentazione, cellulari e computer, che verranno analizzate dagli inquirenti al fine di arricchire il già approfondito quadro probatorio. Tra i reati contestati rientrano quelli di truffa, gravate e continuate in concorso, sostituzione di persone e falsità ideologica e materiale.